Questa amministrazione è giunta al capolinea, non ha futuro. Il sindaco Nicola Giorgino dovrebbe prendere atto di non avere più una maggioranza e dovrebbe quindi decidere di dimettersi per il bene della città. E' il monito che giunge dagli esponenti dei gruppi consigliari di centrosinistra di Andria, che nel corso di una conferenza stampa indetta presso Palazzo di Città hanno commentato quanto accaduto durante la massima sise di venerdì 9 novembre. A causa dell'assenza del numero legale, non si sono presentati anche alcuni esponenti della maggioranza, c'è stato infatti lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale con la conseguente mancata approvazione dei regolamenti sul carico e scarico merci e sui deorri. Noi chiediamo ancora una volta un atto di dignità da parte del sindaco. Continuiamo a insistere che il sindaco prenda atto della inesistenza di questa maggioranza. Piuttosto che rivolgersi ai partiti che l'hanno sostenuto in maniera diciamo così, secondo una bega interna, noi preferiremmo che egli si dimetta cercando di consegnare la città a un nuovo governo, a un governo fresco, diciamo di forze fresche, che possano affrontare la situazione difficile in cui si trova il Comune con nuove energie. Ecco, io ho sempre sottolineato un dato, questa situazione di predisesto non può essere governata da chi l'ha provocata. A ripercorrere quanto avvenuto nel corso della massima assise di venerdì 9 novembre con riferimento soprattutto all'aumento delle tariffe dei latari è stata la consigliera Daniela Di Bari. Abbiamo compreso che mancava un chiaro passaggio sulle tariffe, c'era una variazione di bilancio che guardava in maniera ampia dei provvedimenti, ma che cosa accadeva? Accadeva che per una particolare entrata non c'è stato un passaggio, cioè quello della tari, non c'è stato un passaggio delle tariffe in Consiglio Comunale su proposta della Giunta. E se voglia raccogliere in questo provvedimento tutto quanto. Per questo noi abbiamo poi attenzionato lo stesso Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, i Revisori dei Conti inviando tutto quanto anche al Prefetto perché intervenga in questa situazione di grande disordine e confusione.